Era cominciato come gli altri giorni, poi quello che credevamo di sapere è sparito. I fortunati sono morti in pochi secondi e quando il paese è crollato ci siamo divisi in tribù. Giocatori, lenzuoli, campagnoli, ciliegie, chiodai e noi, i familiari. Lo stai facendo davvero? Sì. Mamma, voglio farti sapere che stiamo arrivando. Abbiamo fatto 200 miglia attraverso i territori di Otto Gang. Stiamo lontani dalle strade. Dormiremo qui. Sarà sicuro? Lo scopriremo. Non voglio morire qui. Le brave persone non sono sopravvissute. Noi sì. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!